Siamo dunque alla pagina sportiva, riprendiamo dal Corriere dell'Umbria. Grifo così sei senza difesa, la retroguardia biancorossa è la più perforata delle squadre ora in zona playoff. La facilità con cui l'undici di Nesta prende gol è un problema. Peggio solo Carpi ed Ascolin. Ieri intanto la ripresa degli allenamenti, unico assente Pavlovich, il terzino deve smaltire una botta, ma non preoccupa. Siamo al volley, Sirre non resta che vincere domani contro Kazan, tre successi su tre contro Perugia e Ngapet. 14 vittorie di fila dalla semifinale di Champions a gara 3 per lo Scudetto. Sabato ci sono i fastidiosi Soli, Orduna e Bukhegger. L'appuntamento è per la giornata di domani alle ore 20.30. Intanto c'è il commento di Patrona Sirci, pecchiamo in cattiveria ed incessività. Torniamo al calcio, siamo a Terni, Serie C, l'urlo di bandecchia, liberati solo chi vuole fare il tifo. Il presidente della Ternana chiama il pubblico a raccolta, quelli che criticano possono restarsene a casa. Il capitano intanto non ce la fa, l'essione del collaterale, stagione terminata per Defendi. Andiamo a Gubbio dove anche Malaccari ha rimediato un brutto infortunio, la sua stagione è finita, ha operato per la frattura allo zigomo destro, dovrà star fuori cinque mesi. E poi una bella storia, magica Arna, cavalcata trionfale. Parliamo di giovanissimi che sono stati promossi nel torneo regionale a due senza nessuna espulsione, quindi bravi anche per Fair Play. Chi festeggia davvero tanto è l'Attiferno che conquista la eccellenza. Trionfi di gruppo, il DG Bianchi dice spero che la città sia fiera di noi. Ho capito tutto da una cena di squadra, ho capito che avremmo vinto. Andiamo a parlare di motori. Marin Angeli pronto al debutto in F4, dallo sci agonistico alla pista d'asfalto passando dai kart. La velocità ce l'ha nel sangue questo giovane pilota Folignate che è l'unico Umbro a prendere parte al campionato monomarca Abarth Tatus. E poi andiamo al messaggero, ripartiamo dal calcio e dal Perugia. Manca un vero bomber al grifo, il miglior attaccante della squadra bianco-rossa a Bido con sette reti. Partenza al razzo, qualche squillo e poi la crisi, Melchiorri ha messo a segno sei gol, Anna solo quattro, ma non c'è un vero e proprio trascinatore. Latiferno di Bianchi promossa in eccellenza, abbiamo visto la grande soddisfazione. E poi Foligno, ma parliamo di basket, il Foligno è salvo, partono bene nei play-off Assisi e Todi. Torniamo al calcio, andiamo a Terni, play-off Bandecchi ci crede, appello del presidente ai tifosi, domenica venita liberati, ma se dovete contestare la squadra è meglio che restate a casa. E poi parliamo di volley, Sir adesso dentro o fuori, le due sconfitte con Kazan e Monza costringono la squadra a giocarsi una intera stagione in appena quattro giorni. Il Foligno soffre il male di rimonta, c'è il Sanzist, poi lo Spoleto e poi per la ginnastica ritmica la stella Agnese Duranti e ancora una volta oro. Andiamo alla Nazione per il suo inserto sportivo, da Perugio a Grifo, Nesta prepara il ritorno di Luca Vido contro il Benevento, l'attaccante ha convinto e corre verso una maglia in coppia con Sadic. Intanto, Santo Padre Regione, il manto del Curi sarà rifatto, ci dovrebbe essere l'accordo. Ancora, l'abbiamo visto, la ginnastica ritmica Agnese, il talento Umbro è d'oro, l'impegno paga sempre, la giovane Spoletina trionfa infatti nella World Cup. La Ternana Bandecchi chiama a raccolta i tifosi e poi la Sir Perugia, la carica di Bernardi, adesso ci aspettano due battaglie e lotteremo. A Gubbio siamo cresciuti, lo dice lo staff del Gubbio, amarezza e fiducia però dopo il pareggio con la Triestina. Ci fermiamo solo un momento, la copertina del nostro Meteo. Dunque la giornata si apre con cieli parzialmente nuvolosi un po' in tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata avremo nuvolosità e un aumento a partire dal nord in estensione su tutti i territori. Nelle ore centrali della giornata piovaschi, sparsi, intermittenti ma di poca entità e comunque non omogenei sui vari territori. Migliora solo in serata. Le temperature le minime 4-6 gradi, le massime 15-18. È davvero tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie a tutti.